Buona giornata amici da Massimo Foghetti e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Ovviamente i giornali questa mattina sono pieni di notizie che provengono dall'Ucraina, una guerra terribile che si sta scatenando in quel paese provocando lutti e rovine. Noi di solito relazioniamo per quanto accade nelle pagine locali del resto del Carlino e del Corriere Adriatico, quindi non possiamo così insistere sulle notizie che provengono dall'est Europa. Comunque gli echi, i riverberi si trovano anche nelle notizie di carattere locale e poi ne parleremo. Oggi è venerdì 25 febbraio 2022, il sole sorge alle 6.52 e tramonta alle 17.52. Il santo del giorno è San Gerlando da Agrigento. A lui si deve la riorganizzazione della diocesi di Agrigento dopo la lunga occupazione musulmana che durò dall'829 al 1086. Tra l'altro costruì la cattedrale dedicata alla Madonna e a San Giacomo. A tutt'oggi è venerato come il patrono della città. Ci sono molte persone che portano ancora il nome di Gerlando, Gerlando appunto di Agrigento. E veniamo dunque alle previsioni del tempo. Vediamo la cartina delle Marche. Cieli poco nuvolosi fino al pomeriggio, poi nel pomeriggio arriverà una perturbazione che porterà piogge e rovesce su tutti i settori della regione. C'è anche un calo termico. Le temperature scenderanno e oscilleranno tra i 7 gradi, per quanto riguarda la minima, ai 13, per quanto riguarda la massima. Sulle coste i venti spireranno da una tendenza, da una direzione di ovest e sud-ovest, sull'interno invece debole da est. Ed ora diamo un'occhiata alle notizie a partire dal resto del Carlino. Si apre con una notizia di urbanistica. Variante di Gimarra, ovvero l'ultimazione dell'Interquartieri. Sei gruppi in ballo per realizzarla. È una notizia che è stata rilasciata dal vicesindaco e assessore all'urbanistica di Fano, Cristian Fanesi. La strada porterà il traffico dalla trave alla statale 16. I lavori per 1.397.000 euro, per quanto riguarda il progetto, il vincitore, si conoscerà tra un mese. Sono dunque sei i gruppi ingegneristici che hanno partecipato alla gara per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. Insomma, un incarico importante perché ovviamente 1.397.000 euro costituiscono una cifra considerevole. Si tratta, ha commentato il vicesindaco Fanesi, di note società di ingegneria a livello nazionale per un delle gare più importanti per quanto riguarda la progettazione del nostro comune. Il comune di Fano va avanti con l'intento di realizzare questa arteria, che è stato oggetto di tante posizioni divergenti tra i cittadini. C'è chi la considera utile, c'è invece chi la considera dannosa per l'impatto sull'ambiente. E parliamo anche dei problemi interni alla maggioranza. Caos maggioranza, un nuovo centrosinistra, un punto interrogativo che l'arresto del Carlino pone sul futuro della vita del centrosinistra a Fano. Ci sono difficoltà nella coalizione. Il primo cittadino dice che questa crisi verrà superata. Insomma, anche lui è ottimista. Comunque è nato un nuovo centrosinistra, formato dalle liste civiche del sindaco, che sono Azione più Europa, Partito Socialista, Volt, e da una parte è consistente del PD locale. Insomma, una spaccatura nel centrosinistra che si è verificata chiaramente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Noi città, noi giovani, insieme è meglio, esprimono soddisfazione per l'affiatamento che si è creato intorno a questa posizione, che è divergente da quella che hanno molti esponenti del centrosinistra. Insomma, una posizione che è ancora da chiarire, che è ancora da sanare. Semminò terrore a Fenile assolto ma sarà in cura. Si parla di un 25enne moldavo che qualche mese fa a Fenile ha fatto da matti, ha fatto da matti perché ha picchiato due donne, ha ucciso un cagnolino, ha preso a morsi e palpeggiato una mamma, insomma, veramente ne ha fatte di tutti i colori. Ha girato a fare veramente aggressivo le vie di Fenile e ha seminato questo terrore. Comunque è stato riconosciuto dal giudice in posizione psichiatrica, insomma, da curare, per cui è stato sentito poi tramite il web nella casa di cura dove attualmente è ricoverato. E' stato assolto per quanto riguarda i reati che ha commesso, ma non viene condannato. Ovviamente però dovrà restare in casa di cura. Bando Marche Innovazioni. Il progetto è rivolto al Nolfi. Il bando regionale delle Marche Innovazione Scuola e Futuro riguarda il Liceo Nolfi di Fano. Il progetto, presentato dalla provincia, è arrivato terzo in graduatoria. L'ex Carducci, invece, lo stabile che deve essere abbattuto e ricostruito, rientra in un'altra graduatoria del MIUR ed è in attesa dell'ufficilizzazione del finanziamento. Ancora non ci sono chiari i finanziamenti che provengono dallo Stato per la ricostruzione dell'ex Carducci. Il giornale, questa mattina, parla ancora della crisi della Saipem. 700 lavoratori a Fano che sono a rischio, ma sono più di tutti a rischio i lavoratori della Mensa. Sono passati da 20 a 5. Si tratta di lavoratori che hanno lavorato a Singhiozzo fino a 10 giorni fa perché a Bellocchi erano presenti meno di 200 dipendenti al giorno. Insomma, a Fano ci sono solo i lavoratori Saipem a vivere con apprensione. Le notizie che arrivano in queste ore dalla sede centrale di San Donato milanese. Insomma, una ditta molto molto importante che ha avuto commesse in tutto il mondo che ora è in crisi. Insomma, hanno influito il costo delle materie prime, hanno influito anche gli effetti della pandemia. Anche la Saipem, l'erede della Snam Progetti, una società molto qualificata a livello ingegneristico in questo momento, sta attraversando venti di crisi. E speriamo che si superino perché la presenza di questa società nelfanese è molto importante. E parliamo anche di Carnevale. Sul Carnevale, l'ombra della guerra. Marco Guidi è stato eletto sindaco del Carnevale in una cerimonia che si svolta così all'impronta ieri in piazza 20 Settembre quando il vice sindaco Cristian Fanesi, in luogo del sindaco che non era in città ieri ma era fuori per un altro incarico ebbene ha ceduto la fascia, lui a nome del sindaco della città ha ceduto la fascia al sindaco del Carnevale. Marco Guidi, un improbabile personaggio vestito in modo goliartico con le vesti di una amorina, di una cupida al femminile appunto il simbolo dell'amore, dell'amore scortese è stato eletto sindaco. Piazza gremita di tanti bambini, comunque anche in questa occasione non si sono dimenticati i problemi della guerra in Ungheria. Il Carnevale per Fano è un fatto culturale che supera anche lo stesso tema, lo stesso argomento del divertimento ma che fa parte del DNA della città. Gian Marioli, la presidente dell'ente carnevalesca, nonostante le brutte notizie bisognava organizzare qualcosa per i bambini e i bambini sono intervenuti in piazza 20 settembre ieri. Peste Suina, azienda di cartoceto in cattedra, all'Expo di Dubai, l'Aceo di Diateva, SRL, Stefania Mariani ha tenuto una relazione sull'importanza del monitoraggio delle malattie. Un argomento questo che sembra un pochino così marginale ma non lo è affatto perché anche l'economia agricola influisce sull'economia marchigiana globale e deve essere tutelata, preservata nel migliore dei modi. E se oltre a tutti i guai di carattere sanitario che si stanno affrontando in questo momento arriva anche la peste Suina, pensate voi che cosa può accadere. Giriamo ancora le pagine sul resto delle Carlino e vediamo la pagina di Urbino. Abbiamo fatto un bilancio da manuale, lo dichiara l'assessore Maffei. Sono stati rispettati i parametri e fornitori pagati in anticipo. Anche la minoranza lo riconosce ma evidenzia però poca visione. Questa è la critica che ha fatto la minoranza. Un indebitamento molto contenuto, equilibrio e costo del personale rispettati e la capacità di ripagare i fornitori in media con sei giorni di anticipo. Anche per il triennio tra il 2022 e il 2024 il Consiglio Comunale di Urbino ha approvato un bilancio di previsione sano che secondo l'amministrazione permetterà di investire tanto sul territorio. Insomma ci sono in questo momento soldi importanti che possono essere investiti nel territorio. Provengono un po' da tutte le parti, dalla regione, dallo Stato, dal PNRR. Insomma ci sono occasioni da sfruttare nel migliore dei modi ma con attenzione. Alla ricerca della grande grotta sul Nerone è questo l'obiettivo dell'attività scientifica del gruppo speleologico Urbinate nelle profondità del massiccio del Nerone. Si suppone che ci sia una grande grotta. Pensate se nel Nerone ci fosse una grotta così come c'è a Frassassi. Sarebbe veramente una risorsa turistica di enorme, grandissima importanza. Sul Monte Nerone, secondo alcuni recenti studi del gruppo, potrebbe esserci una grotta di grandi dimensioni tutta da scoprire. Ma per adesso comunque si va a cauti. Come gruppo, ha puntualizzato Michele Magnoni, uno dei componenti appunto del gruppo speleologico, ci piace parlare grazie a studi e fatti concreti e non per supposizioni. Insomma, in questo momento sì, si accarezza questa eventualità ma si va a cauti. Sì, e ci hanno permesso di individuare una correlazione, dice rispondendo alla domanda, ma ci sono evidenze scientifiche? Sì, ci sono. E ci hanno permesso di individuare una correlazione tra le acque del versante nord orientale del Monte Nerone, verso Piobbico, distanziati di tre chilometri. Evidenze che fanno presupporre l'esistenza di un sistema calzico interno. Quindi veramente una cosa che suscita molta curiosità e bisogna ovviamente scoprire che cosa accade. Vediamo anche le pagine di Pesaro sul resto del Carlino. Si inizia con il parlare dei lavori in Piazza del Popolo, dove si dovrebbe rifare la pavimentazione, ma a qui si parla di una pausa. Bisognerà aspettare tre mesi per avere il sì della soprintendenza di Ancona. E sappiamo come la soprintendenza non sia il massimo per la celerità dei suoi adempimenti. Si va piuttosto a rilento. Salvate la mia famiglia dall'inferno ucraino. Pesaro sia la prima città in Italia ad aiutarci. Ed è la testimonianza di una signora che vive a Pesaro da tanti anni. Si chiama Angelica Karlova, ha 45 anni. Vive in Italia da 20 anni nella città di Pesaro. E qui la vediamo ritratta con il figlio che ha disegnato su questo foglio la bandiera ucraina. Ebbene, la signora ha nel suo paese di origine i parenti, ha la mamma. È molto in pena appunto per la sorte di chi ha lasciato in preda alla guerra. Che idea si fatta di quello che sta succedendo? Gli viene chiesto dal giornale. Posso dire, ha risposto solo parolacce. Chi ci aggredisce ha perso il senno. Sotto ci sono interessi economici. La Russia ha sempre cercato di sottometterci. Prima con la politica, ora con le armi. Questa è una guerra alla Nato nel nostro paese. Lo sapevamo otto anni fa, quando è iniziata la rivoluzione. Insomma, una aggressione preannunciata. Con il comunismo, ha precisato ancora Angelica Karlova, mancava la libertà, c'era poco ma per tutti. Ora la Russia rivuole la nostra libertà, vuole noi la nostra terra. Lo ha detto Putin, siamo una seconda razza. Vedete come considerano gli ucraini quello che sta accadendo nel loro paese. L'ABS richiama gli operai e sono gli effetti che si ripercuotano anche nella nostra economia dalla guerra in Ucraina. L'ABS richiama gli operai. Precipitoso rientro in Italia. Si tratta di montatori che lavoravano come terzisti per l'azienda di chiusa di Ginestreto. Erano andati in Ucraina per allestire una catena di macchine in una fabbrica locale. Un rientro dunque precipitoso. Multa annullata a carriera per la cena proibita. Il giudice ha reso noto le motivazioni per cui ha assolto il ristoratore pesarese. DPCM, chiusure ingiustificate, ha considerato il giudice. Ed ecco le motivazioni della sentenza. Secondo il magistrato, non c'erano indicazioni chiare sulla gravità della diffusione del virus. Chiusure ingiustificate sul piano sanitario. Ordinate senza spiegare in modo sufficiente perché tenere aperto un ristorante dopo le 18 avrebbe favorito la diffusione del virus e non però negli autogridi e negli alberghi rimasti fuori dalla misura restrittiva. Queste in sintesi le motivazioni della sentenza con cui il giudice, si tratta di Flavia Mazzini, ha annullato i giorni scorsi, era il 9 febbraio, la multa da 800 euro inflitta al ristoratore e leader della lista Io Apro, Umberto Carriera, che quella sera aveva tenuto aperto il suo locale ed era stato multato. Dunque una sentenza che dovrebbe fare anche Epoca. Caccia e vacanzieri over, visitatori ideali per la città. Da oggi a martedì si tiene a Pesaro la BTTE, Borsa del Turismo per la terza età. Un target giusto, quello della terza età. Parliamo di gente interessata alla qualità e il nostro territorio può essere una meta privilegiata, hanno detto gli albergatori. E qui vediamo invece un articolo che riguarda lo sciopero dei camionisti che scioperano per quanto riguarda il caro gasolio, il caro fonti energetiche. Noi camionisti, sono quelli pesaresi che parlano, siamo tenuti in ostaggio da giorni dove? In Puglia, dove lo sciopero è molto sentito ed è molto aggressivo. Autotrasportatori bloccati nel Foggiano da colleghi in rivolta con il governo per il caro carburante. Il racconto di un pesarese. Dice, siamo in ostaggio da quasi cinque giorni in un parcheggio vicino all'uscita del casello autostradale di Cerignola. Non ci fanno ripartire. Chi tenta di superare il blocco viene aggredito, picchiato e il camion danneggiato. Insomma, sono gli stessi colleghi che insorgono contro chi e vorrebbe magari tornare a casa e invece non può perché è tenuto ostaggio in quel parcheggio. Saltamartini, Marche Nord assorbirà l'area vasta 1. Noi contiamo di presentare il piano sociosanitario regionale che prevederà la revisione della legge 13 sull'Asur tra marzo e giugno, ha dichiarato l'assessore alla sanità appunto della regione Marche. E ci sono novità importanti perché non si parlerà più di territorio e di ospedale come due entità divise come attualmente area vasta e azienda ospedaliera ma verrà tutto integrato in un'unica struttura e vedremo che cosa si farà in modo preciso. A questo punto abbiamo terminato l'esame del resto del Carlino e apriamo il giornale sul Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che si apre con la politica, si parla della presa di posizione di due entità che si sono confrontate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ovvero le liste civiche e il Partito Democratico ovvero la componente di maggioranza del Partito Democratico la mozione con il vincolo sull'Aset complicato lo sviluppo della città. Le liste civiche accusano di miopia la scelta del Consiglio che ha privilegiato appunto il divieto di considerare l'Aset come un'entità cedibile ovvero un'entità che si svincola dall'apparato pubblico invece questo è stato completamente confermato mentre Della Dora che è il segretario politico del Partito Democratico fanese dice alla linea maggioritaria ci si deve adeguare ovviamente il discorso è indirizzato a coloro che all'interno del Partito Democratico hanno avuto una visione difforme da quella della maggioranza il Comune tuteli le casette del Duce è stata abbattuta un'altra costruzione l'ecomuseo vuole salvaguardare la storia ebbene la gente di Metauriglia rilancia un appello che negli anni passati è stato condiviso anche da liberi professionisti e figuri della cultura fanese si preservino le casette del Duce la richiesta si ripropone ogni volta che proprio come in questi giorni sta accadendo viene abbattuta un'altra delle 115 abitazioni erette tra il 1934 e il 1938 la segnalazione è dell'ecomuseo Metauriglia Orto di Mare a scanso di equivoci però è tutto regolare non ci sono abbattimenti abusivi solo che dal punto di vista storico dal punto di vista etico dal punto di vista sociale diciamo così questo abbattimento dispiace perché insomma le casette del Duce a parte chi l'ha fatta e chi non l'ha fatta costituiscono un esempio di edilizia sociale che dovrebbe essere preservato dal punto di vista storico anche il Corriere Adriantico evidenzia la notizia dell'esito del processo che è stato compiuto nei confronti di quella persona che armata di macete ha sparso il terrore a Fenile e ha mandato tre persone all'ospedale è stato dichiarato incapace di intendere e di volere ora però viene costudito nella REM ovvero nella residenza dove vengono curati i malati psichici venti di guerra anche sul carnevale festa per i bimbi il resto è tristezza la tradizione fanese non tradisce la storia ma i fatti in Ucraina attenuano i toni dell'evento ai colpi di tamburo che hanno cadenzato ieri il passo della musica arabita hanno fatto eco hanno fatto riscontro i colpi di cannone che in un paese lontano ma non troppo hanno innescato un dramma i cui effetti non mancheranno di provocare lutti e rovine insomma nell'aprire il carnevale dedicato ai bambini come è consuetudine fare nel giovedì grasso ieri appunto era il clou del carnevale non si è dimenticato quello che sta accadendo appunto in Ucraina e qui vediamo alcune fotografie della piazza agremita di mamme soprattutto con i loro bambini e qui vediamo il passaggio delle consegne tra il passaggio delle consegne appunto la fascia della città tra il vice sindaco Cristian Fanesi e il sindaco del carnevale Marco Guidi vero nella vita ho commesso tanti errori ma non centro con i morti della lanterna ed è significativo che sulla pagina di Val Metauro oggi il Corriere Adriatico pone un ritorno a quanto sta accadendo nel processo che si sta celebrando in Ancona contro gli imputati per quanto riguarda la tragedia della lanterna della lanterna azzurra di Corinaldo fino a quando avrò un filo di voce ha dichiarato uno degli imputati continuerò a gridare la mia estraneità in merito alla tragedia di Corinaldo con quei fatti e con chi ha concorso nel causarli io non centro nulla sono le parole di Andrea Cavallari uno dei sei rapinatori residenti nella bassa modenese accusati dalla procura di avere contribuito a trasformare quel locale quella discoteca la lanterna azzurra in una trappola mortale dove persero la vita sei persone e questo lo sappiamo bene e per quanto riguarda per quanto riguarda le notizie della nostra regione volevo segnalarvi anche il grosso incendio che si è verificato ieri all'API di Falconara fiamme in raffineria mezz'ora di terrore l'allarme in ritardo il sindaco signorini sono stato io a chiamare l'API doveva comunicare subito l'incendio a chiamare ovviamente i pompieri i vigili del fuoco l'API doveva comunicare subito l'incendio in questo caso il sindaco dice che c'è stato un ritardo il rogo è scoppiato intorno alle 12 all'API di Falconara ed è stato domato entro le 12 e 30 in poco o meno di mezz'ora non vi sono persone coinvolte a contenere ed estinguere l'incendio hanno provveduto le squadre di pronto intervento e dei vigili del fuoco e gli impianti automatici di emergenza della raffineria insomma un concorso di forze che ha vietato che l'incendio causasse un dramma veramente forte perché insomma le strutture dell'API di Falconara piene di liquido infiammabile costituiscono un pericolo incombente fiamme alte 15 metri che paura ma siamo addestrati al pericolo gli operai che hanno lanciato l'SOS in questi casi sappiamo cosa fare hanno dichiarato gli stessi interessati diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi abbiamo l'apertura dedicata al taglio degli alberi al mirafiore di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi la pulizia e il taglio sono tutti regolari lo dice l'assessore Belloni che replica agli ambientalisti ora stop e si riprende nel mese di maggio si riprenderà a tarda primavera con l'abbattimento programmatico di alberature secche già visionate dagli uomini già visionate dagli uomini della forestale e per quanto riguarda il comune e per quanto riguarda i rifiuti il comune abbia il coraggio di superare il porta a porta lo dice Andreoli della Lega ora bisogna fare basta con le sperimentazioni insomma bisogna cambiare radicalmente il sistema di raccolta dei rifiuti già a Pesaro si parla appunto dei cassonetti con una tessera individualizzata il ritorno all'estate sosta riqualificata e pedonalizzazioni in commissione il progetto di recupero del parcheggio di Villa Marina e anche nella prossima stagione le auto saranno vietate in Viale Trieste e poi ovviamente anche il turismo soffrirà di quello che sta accadendo in Ucraina una mannaia sul turismo qui lo straniero è ucraino lo dice Vincenzo Ricci uno degli operatori storici per quanto riguarda i rapporti tra Pesaro la provincia pesarese è stato anche responsabile della Confesagenti di Fano molto tempo fa e l'est europeo e quindi i danni si ripercuoteranno anche nel nostro territorio e poi qui abbiamo invece l'articolo che riguarda carriera locali aperti a pranzo e chiusi di sera senza nessun fondamento scientifico secondo il giudice e siamo in conclusione con questa notizia termina la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata a risentirci